Farò solamente qualche breve risposta su alcune cose che ho sentito che invece non condivido partendo dall'intervento del collega Sensi, Filippo Sensi. Guardi, collega Sensi, io non ho condiviso alcune cose che lei ha detto, in particolare sul tema della compattezza della maggioranza. Credo che non ci sia nulla, oltre alla linea politica che un governo vota in aula e rappresenta all'estero senza tentenamenti che dimostri la compattezza di una maggioranza. E credo che senza timore di smentita, e lo dico ringraziando le forze di maggioranza, senza timore di smentita questo governo in questo anno e mezzo abbia sempre potuto rappresentare la stessa posizione, con estrema forza, con estrema determinazione, come tutti a livello internazionale ci riconoscono e dispiace che spesso invece non venga riconosciuto a livello nazionale. Mi pare piuttosto che qualche tentennamento, mi consenta, ci sia dalle parti delle opposizioni. E guardi, non faccio riferimento alla posizione del Movimento 5 Stelle, per una volta voglio fare riferimento alla posizione del Partito Democratico, perché è il suo partito che nell'ultima occasione si è astenuto quando si è trattato di votare sull'invio delle armi all'Ucraina. E allora non si può avere due facce. E mi consenta, collega, non vale neanche, dal mio punto di vista, l'argomentazione, vabbè, ma noi siamo all'opposizione, ci possiamo permettere di essere così un po' naif. Per carità, certo che non si hanno le stesse responsabilità di chi è al governo, però io mi ricordo quando ero all'opposizione, e penso che lo ricordi anche lei, penso che lei ricordi che Fratelli d'Italia ha tenuto dall'opposizione esattamente la stessa posizione che ha oggi che è al governo, perché ci sono temi sui quali non si fa la campagna elettorale, per come la vedo io.